In questi giorni con i commercianti e le attività... Sviluppo economico e rilancio delle attività produttive a nocere inferiore. L'assessore al ramo Antonio Franza è all'opera per mettere a punto una precisa programmazione che possa rivitalizzare l'intero comparto, facendo leva sulle potenzialità nocerine. Per il delegato allo sviluppo economico e fondi comunitari dell'Aggiunta Torquato, il primo obiettivo è realizzare un Open Day al Comune per incontrare le varie associazioni di categoria con le quali Franza intende avviare un'interlocuzione continua e costruttiva. Rispetto delle regole, ha dichiarato, ascolto e condivisione saranno le linee guida del mio assessorato. È mia intenzione, ha aggiunto, insieme alle realtà dei quattro settori, impresa, commercio, artigianato e agricoltura, tracciare un percorso comune che mire allo sviluppo delle attività produttive locali. Poi sarà la volta di un rinnovato protagonismo dei negozianti. attraverso la riconvocazione e istituzionalizzazione degli incontri della consulta. Il terzo obiettivo che Franza intende raggiungere nel prossimo semestre è l'avvio dell'ITER per la DECO, la denominazione comunale d'origine. La DECO non è un marchio di qualità, ha spiegato Franza, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto-produzione al luogo storico di origine. Una cosa dunque di cui potrebbero beneficiare moltissimi prodotti agricoli come il cipollotto nocerino. L'elenco di attività è molto lungo e prevede la realizzazione di un'indagine conoscitiva per l'individuazione di soggetti interessati ad organizzare eventi che mirino alla valorizzazione delle attività locali. Ma c'è anche la definizione di una nuova convenzione con il COIFIM, ovvero il Consorzio degli Imprenditori di Fosso Imperatore. In cantiere pure la realizzazione di uno spot che promozioni il territorio, mentre grande attenzione sarà riservata alle attività ricettive con un progetto per lo sviluppo e la promozione dei B&B e delle case vacanze che consenta alla città, ha dichiarato Franza, di posizionarsi in un settore turistico di seconda fascia. Contestualmente l'assessore allo sviluppo economico e fondi comunitari lavorerà ad un accordo con l'ente nazionale del microcredito per l'apertura di uno sportello informativo presso i locali del comune.